Quello che state vedendo quest'oggi è un trailer uscito a settembre 2023, quindi davvero recente, recente, che ha catturato l'attenzione dei videogiocatori, del pubblico e della critica specializzata per via delle sue meccaniche. E di che cosa stiamo parlando? Beh, ovviamente starete vedendo che si tratta di uno shooter, sicuramente state vedendo che si tratta di un horror, sicuramente state vedendo che ha una grafica pazzesca a Real Engine 5 e molto probabilmente non sapete che il titolo è un P versus Environment, P versus P. Insomma, il videogioco non vuole essere quel videogioco shooter dove orde di zombie vi si parano davanti, assolutissimamente no, vuole portare dentro di sé un'anima realistica, un'anima horror, un'anima competitiva. Insomma, questo videogioco vuole distinguersi da una massa, una massa di videogiochi che molto spesso su questi generi non riesce molto a innovarsi. Riuscirà questo titolo a prendersi un posticcino per noi nei nostri PC nel 2024 per poi approdare nelle console current gen sempre verso quello stesso anno? Così dicono gli sviluppatori? Beh, lo scopriamo in questo video. Benvenuti su Topaz. Di When the daylight pierced through the branches we understood we were standing before God. And here you are. On the edge of the Creator. Listening to the echoes of a written story. See. The world will collapse. And while you stand in the midst of nothingness. Searching for light in the darkness. Grasping the truth in the final reckoning. We were caught in the Rubicon's flow. Behind the high ramparts. Where it cannot see us. We recite our final words. Motherland. Bless your children who are about to die. Beyond my sword. And behind my shield. I smile. Because against all odds. I will triumph. RUN ALLLAY RUN ALLLAY Grazie a tutti. 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 Perché? Grazie a tutti. 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 E questo è un videogioco non pensato per il fancazzismo, per i giocatori della domenica e per chi non ha un gruppo e non ha voglia di sprecare due parole in inglese con chi sta giocando. E' un gioco, come vi ho detto, pensato e realizzato da player che vogliono delle meccaniche molto forti, vogliono un videogioco, uno shooter hardcore, profondo, ben rifinito e con dei contorni molto più tattici e meno cacciaroni di quanto non può essere un Hunt Showdown oppure un Rainbow Six Extraction. Questa è l'idea. L'idea in questione quindi a me coinvolge davvero tanto. Certo, riuscirà a raggiungere solamente una piccola parte del pubblico, su questo ne sono assolutissimamente certo, ma penso che anche la svolta P versus P possa in qualche maniera aiutare gli sviluppatori a riconfigurare un po' meglio la loro idea, che di base, voi comprendete, se non trovate abbastanza player e non riesce a fare abbastanza squadre, non riesce a avere abbastanza alieni, inizia a perdersi, no? Per via della sua assimmetria inizia a perdersi e men che non si dica il gioco va in disuso. Insomma, io su questo videogioco ho grandi aspettative, forse davvero troppo alte, spero vivamente che questa idea, questo nuovo loro modo di fare, di porsi, di creare titoli, possa essere vincente e, che dire, lo aspettiamo nel 2024 con un'incredibile grafica, con ovviamente tanti possibili nuovi aggiornamenti, che io sarò qui a raccontarvi in dei prossimi megavideo. Se la scoperta dei video, come sempre, vi piace, like e iscrizione. Alla prossima, ciao!